Quarta trasmissione in realtà Luca Trolli Lo sai che ci siamo trovati subito D'accordo dal punto di vista musicale Dal primo Sai Shaker e Charleston No? O si va d'accordo O aiuto Questa è una domanda che volevo farti Sempre un off topic Ma per un batterista è basta Quanto è importante imparare a suonare un po' lo Shaker Perché è l'andamento del Charleston E cosa consigli di fare? Mettersi una canzone e suonarci dietro? Per esempio Anche se in realtà la cosa più bella Potrebbe essere Chiamare un amico Un batterista E andare a trovarlo e suonare insieme Lo Shaker piuttosto che su un disco Anche sul disco va bene Ma vedere questa cosa dal vivo Con un'altra persona E quindi l'interplay Che si crea Comunque no Da prima sicuramente studiare Lo Shaker Su un brano Anche su un brano che magari Tu stesso hai registrato Per esempio Registri la batteria Stoppi Registri lo Shaker Una cosa Una cosa che io ho notato Su un disco di Alfredo Come si chiama il disco? Just Play Life Uno degli ultimi Sì Mi sembra di sì Mi sembra di sì C'è un brano meraviglioso Si chiama She's Just Burn Tipo Lei è appena nata Che è un brano che io mettevo sempre Quando Adriano Mio figlio era piccolo Gli piaceva un sacco Un brano strumentale Bellissimo Grazie Dopo un po' ho scoperto Che c'era lo Shaker sotto Non si sentiva Era talmente Talmente Fuso con il Charleston di Alfredo Che non si sentiva E quella è una cosa Cioè Praticamente lo Shaker dava Sono quei dettagli Che fanno la differenza I famosi dettagli Che fanno la differenza Esatto Bravo Alfredo suonava in ottavi Il Charlie E lo Shaker chiaramente in sedicesimi Ma non sembrava Perché a parte che la scelta sonora Perché lo Shaker Devi anche saperlo scegliere In base al Charleston Perché non puoi Avere un Charleston Leggero Sai Liscio E uno Shaker duro Cozzano E quando scegli Una sonorità simile Si amalgamano tantissimo E questa L'aver scoperto Qualche settimana dopo Che in realtà Quel brano aveva lo Shaker sotto Sono rimasto sconvolto Come Veramente come quel brano Scivola molto di più Con lo Shaker Rispetto a che Se non ci fosse Certo Quindi L'importanza di studiare Anche uno strumento Che non sia Appunto solo la batteria Ma anche uno strumento A percussione Ti fa suonare meglio Per esempio Una cosa che ho imparato io Suonando lo Shaker Ho imparato a suonare Più basso di volume Il Charlie Perché comunque Il Charlie È una frequenza Che arriva Soprattutto quando Suono i sedicesimi A legarli molto di più Perché lo Shaker Lega i sedicesimi Facendo avanti e indietro Con le palline Legano molto di più E io ho cercato Di imitare Il più possibile Il suono dello Shaker Sul Charleston E questo Invito a farlo tutti Un'altra cosa Importante Io dico Trovatevi Un altro strumento Che non sia La batteria Da studiare Eh beh certo Che sia il basso Che sia le percussioni Le membrane Le congas La chitarra Qualunque cosa Aiuta moltissimo Nell'approccio Del tuo strumento primario Grazie a tutti